Buongiorno a tutti, siamo ben felici di accogliere, salutare, ascoltare professor Giulio Giorello che è un ospite illustre della festa di scienza e filosofia e quindi ci consentirà, consentirà tutto il pubblico in modo particolare agli studenti di Foligno di sentire dalla viva voce delle questioni di grande importanza e che sono chiamati loro stessi ad affrontare nel percorso di studi che stanno compiendo. Giulio Giorello è uno dei più accreditate ed eminenti filosofi ed epistemologi italiani. Si è laureato prima in filosofia nel 68, poi in matematica nel 71 ed è stato allievo di uno dei nostri più grandi filosofi della scienza, Ludovico Geimonat. Ha insegnato meccanica razionale alla facoltà di ingegneria di Pavia e attualmente è titolare della cattedra di filosofia della scienza all'Università di Milano. Dopo le prime ricerche in filosofia, storia della scienza e della matematica, i suoi interessi si sono ampliati verso le tematiche del cambiamento scientifico e delle relazioni tra scienza, etica e politica. Si è occupato anche di storia della scienza, in particolare le dispute novecentesche sul metodo e poi di studio di storia delle matematiche, lo spettro e il libertino. Nel 1981 ha curato con Marco Mondatori l'edizione italiana di On Liberty, sulla libertà, di John Stuart Mill. Questo ha messo in evidenza quindi un interesse importante e forte che è il rapporto fra conoscenza e libertà, libertà individuale, problema dell'autonomia, del pensiero e della ricerca scientifica. È conosciuto anche per le sue posizioni che ci ha messo lui stesso in evidenza, per esempio, raccontando nel prologo del suo saggio Senza Dio del buon uso dell'ateismo. ha messo in evidenza i primi passi della sua formazione intellettuale e anche il senso di quello che è conosciuto, ben noto come ateismo metodologico, di cui si è parlato, per esempio, anche nella conferenza di ieri sera e come ha messo in evidenza il mio collega che l'ha presentato ieri sera. Mentre questa mattina, proprio per sottolineare lo sforzo e l'importanza del rapporto fra conoscenza, libertà, autonomia, democrazia, società aperta, ecco, possiamo citare fra le opere, le numerosissime opere che il professore ha scritto, una di particolare curiosità o un interesse di particolare curiosità, perlomeno per me. Una è la filosofia di Dylan Dogg, Dylan Dogg, fumetto che i miei figli leggevano tanto volentieri, quindi. E l'altro è la filosofia di Topolino, e quello lo leggevo veramente volentieri, anch'io, molto volentieri, e quindi ci porta su un terreno del rapporto tra la dimensione della scienza e la dimensione, invece, se vogliamo, del nostro vivere quotidiano, ordinario, rapporto con il senso e il destino per noi della nostra conoscenza. Ora do la parola a Giulio Giorello, ringraziandolo del suo intervento. Grazie Presidente, grazie a tutti voi che siete qui. Spero che si senta bene la voce e con il collegamento del microfono. E, visto che il tema di oggi è una chiacchierata sulle teorie false o quelle inutili, che tante volte noi ritroviamo nel mondo della scienza, comincio subito raccontando una storia, perché è bene, secondo me, raccontare storie relativamente divertenti. Una di queste è la cosiddetta storia della memoria dell'acqua. Il 28 luglio del 1988, una delle riviste scientifiche più prestigiose, Nature, ospitò un articolo di un prestigioso medico e biochimico, il professor Van Veniste di Parigi, che con un'equipe di 13 persone, per la maggior parte francesi, ma anche un presente degli italiani, dei canadesi e degli israeliani, presentò l'idea che poi è diventata volgarmente famosa come quella della memoria dell'acqua. In realtà, il testo faceva vedere, con delle pretese prove empiriche, come una soluzione che venga invasa da sostanze che producono allergie, causi, per colpa di alcuni nostri globuli bianchi, una serie di reazioni allergiche, giusto appunto, e queste reazioni ragionevolmente dovevano diminuire man mano che le sostanze che producevano l'allergia venivano sempre più diluite nell'acqua, fino praticamente a scomparire. Cioè, al di là di una certa soglia, non dovevano causare più fenomeni allergici. Invece, Van Veniste e i suoi sostenevano che questi fenomeni continuavano, addirittura quando di fatto qualunque traccia della materia inquinante era stata rimossa. Di qui, ben presto la battuta, l'acqua ha una memoria. Nonostante che ormai sia stata purificata dalla sostanza inquinante, questa memoria continua a produrre quegli effetti che la soluzione piena abitualmente produce. Sembrava una cosa totalmente incredibile, ma dopo un lungo riflessione, il comitato scientifico della rivista Nature, che è una delle riviste più prestigiosi in campo scientifico, decise lo stesso di pubblicare. Però fu così questo articolo dirompente da provocare una serie di lettere di persone considerevolmente preoccupate. E allora, per pulirsi la coscienza, il direttore delle Maddox di Nature nominò una commissione con dei ricercatori americani degli istituti nazionali della sanità per vedere se questi esperimenti dell'equip di Ben Veniste avevano validità o meno. Nella commissione fu aggiunto James Randi. James Randi è un personaggio molto curioso, perché non fa lo scienziato di professione, fa il prestigiatore. E viene più volte assoldato da equip che vogliono controllare se c'è al di sotto un fraintendimento o addirittura una frode scientifica. L'inclusione di Randi nella commissione di controllo provocò le iri di Ben Veniste e una polemica molto aspra. Dico molto aspra perché i toni spesso andarono oltre il semplice scambio acceso di idee e si arrivò quasi all'insulto. Ben Veniste poi è defunto, la memoria dell'acqua è stata accantonata, gli esperimenti di Ben Veniste furono rifatti dando risultati completamente diversi, per di più circolò il sospetto che l'equip di Ben Veniste avesse cancellato risultati negativi tenendo solo quelli a favore della propria teoria. peggio ancora, altro sospetto, che alcuni degli appartenenti all'equip di Ben Veniste fossero delle persone legate a industrie farmaceutiche che producevano prodotti di tipo omeopatico. Quindi diventa una grande polemica sulle prove a favore o conto dell'omeopatia. Per cui c'è una storia divertente se noi la raccontiamo, ma Ben Veniste non ci si è divertito affatto, perché si paragonò a Galileo Galilei di fronte al Tribunale dell'Inquisizione o alle streghe condannate da Cotton Matter durante i processi di Salem nel New England ai tempi dei tempi. Bene, poi Ben Veniste è morto, la storia è stata, appunto, dicevo, in parte dimenticate, anche se teorie simili a quelle di Ben Veniste che sono state sostenute anche da altri prestigiosi autori, anche questi poi attaccati, tra cui Luc Montagné, che noi leghiamo soprattutto alla grande polemica sull'individuazione del vettore che causa la sindrome da immunodeficienza acquisita. Quindi, vedete che questa storia lega l'ambiente scientifico al terreno così scivoloso della frode, addirittura, del sospetto di frode. Avvengono queste cose nella scienza? Ahimè, sì, oppure, forse nemmeno ahimè. Adesso cercheremo di capire perché alla fin fine si può imparare anche dalle frodi scientifiche che è qualche cosa di interessante. Silvano Fuso, che è uno ricercatore che appartiene tra l'altro al CICAP, cioè al centro del controllo dei cosiddetti fenomeni paranormali, ha scritto qualche anno fa un bel libro, La falsa scienza, pubblicato da Carocci, in cui questa e molte altre storie di scienza malata, lui la chiama, sono raccontate a cominciare dal mondo antico per arrivare ai nostri contemporanei. Attenzione, perché la cosa è estremamente delicata. Uno degli aspetti involontariamente comici della vicenda della memoria dell'acqua è quella che nel 1991 Benveniste fu uno di coloro che inaugurò, ricevendolo, il conferimento del premio Ig Nobel da ignobile, ma anche Ig contro Nobel, dedicato alle ricerche più pazze, bizzarre, balsane, che possono comparire sulle riviste scientifiche. Per esempio, nel 1991, l'Ignobel consacrò una nuova disciplina, la psicoceramica, che cercava di appurare, in modo quantitativo, gli effetti psicologici che portano qualcuno a rompere o assistere alla rottura di ceramiche ben costruite. Ma l'Ignobel è andato molto più in là. Per esempio, un altro ignobile, dato non a caso a un canadese che lavorava all'università dell'Ontario, era dedicato a una specie di corazza che lui aveva ideato e aveva anche controllato su suo stesso che consente di resistere a un abbraccio di un orso, di un grizzo particolarmente feroce, ecco, di un orso. Ora, questa magari anche non è proprio scienza inutile se uno ha l'abitudine di abbracciare gli orsi, tipo di sport da cui io consiglierei tutti voi di astenervi, mentre spingerei la signora Sara Parin, che è una maniaca del contatto con l'orso, la nota estremista repubblicana negli Stati Uniti, a proseguire, magari anche senza corazza, questo elegante ed emozionante sport. E ce ne sono molte altre di ricerche di Nobel. Le ricerche di Nobel spaziano dalla fisica all'economia, dalla statistica. Per esempio, una volta fu vinto il premio da una chiesa battista dell'Alabema, la quale voleva studiare con delle misurazioni oggettive il tasso di peccato nella propria congregazione per poter dare una soglia sopra la quale i peccatori, se non si fossero adeguatamente pentiti, sarebbero stati sicuri di finire all'inferno. Domanda, ma dov'è l'inferno? Risposta pure per dov'è l'inferno, sempre dagli Nobel viene fuori che uno dei posti adatti per collocare l'inferno non è esattamente nel centro della Terra, come i tempi del buon Prado di Dante, bensì abbiamo delle location molto più ampie e non sono immuteribili. Per esempio, i buchi neri ritrovati da Archibald Wheeler, previsti dalle teorie relativistiche. Quindi vedete che c'è una grande possibilità di gioco in questi premi in Nobel, alcuni vanno a toccare proprio quei teorini della moralità religiosa o non religiosa che sfiorava ieri sera una bella relazione, l'amico Paolo Flores d'Arcai, se qualcuno c'era, verrà qualche connessione. Ma ci ritorneremo su questo punto. L'innobel non è una cosa che debba essere così liquidata come una pura bizzarria. È conferito da prestigiosi istituti legati alle strutture universitarie di Harvard, Harvard è una dimensione internazionale. Da un certo anno in poi i premi Nobel, che però non sono in denaro, al contrario dei Nobel, sono messi su internet. Qualcuno è accusato di mettere in burletta la scienza. E infatti un ministro britannico disse che gli inglesi non devono essere mai coinvolti in tutto ciò, perché non che si tocchi la purezza della scienza della grande Inghilterra, gli inglesi non perdono mai quell'atteggiamento che feci dire una volta a uno di loro, perché l'inglese è così utile per descrivere il mondo? Perché il mondo è intrinsecamente inglese. Ecco, questo tipo di impostazione, ma a furoro di popolo questo consiglio delle autorità britanniche venne ignorato. E l'innobel produce popolarità e talvolta fame e fortuna. Non c'è bisogno di arrabbiarsi forse come ha fatto Benveniste, ma può anche portare, insisto, fortuna. Esempio, nell'anno 2000, due grandi scienziati di prestigio, Andre Gein di Nimega e Michael Burry della Bristol University, vinsero il premio di Nobel per aver pubblicato una ricerca in cui si spiegava come dei magneti venivano utilizzati per sollevare una rana, si chiama levitazione diamagnetica questa. Siccome la rana poteva essere ancora sospetta, hanno riprovato con un lottatore giapponese di sumo, sono persone, diciamo, di sana e robusta costituzione, soprattutto robusta. E per questo, appunto, furono insigniti dell'Ignobe. Dieci anni dopo, Andre Gein, spero di pronunciare corretto il nome, era insignito del Nobel, quello vero, per aver trovato sostanzialmente il grafene. Il grafene è una sostanza derivata dal carbonio che unisce due proprietà che sembrerebbero antitetiche, resistente come il diamante, ma flessibile come la plastica, è uno dei materiali del futuro. Quindi, la stanza povera della scienza, quella delle bizzarrie, degli ricercatori un po' cranchi, come si dicono appunto gli inglesi, non è poi non comunicante con le sfere alte dei Nobel, come le simpatie di Montagné per la memoria dell'acqua stanno a dimostrare come l'avventura del grafene invece indica in un senso opposto. Il fatto è che non è così facile al primo colpo distinguere quella che noi oggi riconsideriamo scienza malata o pseudoscienza addirittura da quella che riteniamo invece la seria ricerca scientifica. Intanto può darsi che molti scienziati sbaglino, ma portano avanti un programma di ricerca che si è dimostrato sul lungo periodo vincitore in cui noi oggi ci guarderemo bene dal considerare un programma regressivo, ma consideriamo progressivo, eppure possono averci infilate delle cappellate. Capita, eh? Tipicamente, l'esempio che io faccio sempre è quello della spiegazione di Galileo Galilei del flusso e riflusso del mare, cioè delle maree, che veniva da Galileo giustificato sostegno che due moti inerziali, inerziali nel senso di Galileo, cioè di inerzia circolare, combinati insieme, non erano più inerziali e quindi producevano degli effetti, uno degli effetti era le maree che inondano Venezia col fenomeno dell'acqua alta. E allora, ditemi, signori veneziani, scrivono ad un certo punto, Galileo Galilei, da dove viene quest'acqua qui, se non per l'effetto dei morti della terra. Un bel problema che passiamo al sindaco Cacciari o qualcuno dei suoi successori alla Municipalità di Venezia, ma in realtà se Galileo avesse prestato orecchio ad alcuni suoi colleghi scientifici, tra cui il grande Cheplero, il sospettuccio che fossero le maree dovute invece all'attrazione della Luna, gli sarebbe dovuto venire in mente. E come il volge della Luna scuopre di scuopre li liti senza posa, così fa di Fiorenza la fortuna. Dante Paradiso quando nel suo viaggio turistico nell'altro mondo il nostro poeta nazionale incontra l'Avo Cacciaguida che usa l'immagine della Luna che destabilizza i mari come metafora della fortuna politica. Sarebbe stato importante leggere Cheplero. Certo, Galileo non era antiveggente, non potrebbe pensare che nel 1687 Isaac Newton avrebbe unito insieme con una profonda formula teorica quella della formuletta che dice che la forza di gravità è direttamente proporzionale al prodotto di due masse e inversamente proporzionale al quadrato della distanza una delle poche formule di fisica che gli studenti dovrebbero ricordare qualche volta quando faccio qualche esame vedo che qualcuno ci tenta spesso con risultati non incommiabili ma almeno il tentare è positivo quindi e da questa formula Newton avrebbe ricavato le ellissi di Cheplero le parabole dei proiettili Galileani e un mucchio di altre belle cose e in particolare il flusso e o riflusso del nostro mare inglese almeno per l'Inghilterra era posto con una teoria quantitativa e non solo qualitativa delle maree quindi un grande scienziato come Galileo Galileo un eroe della scienza può tirar fuori una teoria che è complessivamente sbagliata anche su qualche recupero della teoria di Galileo al secondo ordine credo si possa fare ma qui c'è di fronte a me Enzo Barone che conosce questi argomenti molto meglio di me fatto sta che Galileo però perseverò nell'opinione disse che questa prova era la prova finale fisica della verità del copernicanesimo e si ritrovò di fronte alla ruota dentata gentilmente offerta per salvare l'anima dai suoi inquisitori nel famoso inchiesta tenuta a Roma al palazzo della Minerva nel 1633 la storia è ben nota Galileo quindi il padre della scienza italiana ha commesso un errore non è l'unico che ha commesso ne sono anche altri ma questo è quello che è stato più fatale più fatale a Galileo Galilei non dico che si è stato esattamente condannato per questo ma certo questo non gli giovò minimamente non gli giovò anche ai grandi scienziati del nostro novecento hanno commesso degli errori in uno splendido secondo me articolo che è comparso oggi sulle pagine della Repubblica sulla pagina della Repubblica in un articolo appunto splendido come chiarezza bel modo di scrivere reso avvincente quasi come un racconto giallo il fisico Carlo Rovelli che è uno dei protagonisti della ricerca nella gravità quantistica racconta il doppio errore di Einstein nel mille novecento diciassette quando applicò le equazioni della gravità eisteniana cioè della relatività generale alla struttura dell'intero universo cioè diede un modello cosmologico mostrò genialmente che questo modello era una una tresfera di Riemann quindi utilizzò in maniera sconvolgentemente rivoluzionaria una grande deconcezione teoretica dei matematici dei matematici però commise due piccoli errori mica tanto piccoli uno quello di non rendersi inizialmente conto che il suo modello era instabile cioè prevedeva il collasso dell'universo un po' inquietante ma il tipo di correzioni che Einstein introdusse quelle che di solito si riassumono nel cosiddetto uso della costante cosmologica furono poi dallo stesso Einstein considerate la più grossa cazzata della mia vita come scrisse nel 1937 all'amico Willem de Sitt ma appunto vedo qui che mi guarda sempre Barone che ha scritto recentemente una bellissima biografia di Einstein mi guarda con un'aria sospetta ma poi dire a lui se è d'accordo o meno fatto sta che l'errore di Einstein è un la costante cosmologica in particolare non è affatto un errore e adesso è stata ripresa con grande interesse e vigore da altri cosmologi che pure non condivinano l'idea di Einstein di un universo statico ma invece sono inserite nell'idea di una storia dinamica dell'universo quindi conclude giustamente Carlo Rovelli Einstein è stato il genio che ci ha insegnato il coraggio di cambiare idea a fianco dell'articolo di Rovelli c'è un bell'articolo di Massimiano Bucchi sociologo della scienza il quale fa notare come l'accademia per lungo tempo considerò Einstein quasi come un charlatano attenzione mentre il grande Max Planck si innamorò prestissimo delle concezioni della relatività ristretta cioè della etrodinamica dei corpi in movimento e fu lui che coniò un termine relative theory che poi è diventato noto come teoria della relatività altri scienziati furono molto critici nei confronti di Einstein tra cui un Nobel come Philip Lennar che era stato uno dei punti di riferimento di Einstein stesso della sua prima consorte Mileva Maric Lennar considerò sempre Einstein qualcosa come un imbroglione per di più Lennar aveva il difetto di nutrire sentimenti vigorosamente antisemiti questo ancora prima dell'ascesa del nazismo e quindi attaccare Einstein con il licee del fisico ciarlatano giudaico divenne uno sport abbastanza diffuso in Germania Einstein naturalmente fu attaccato anche da altre motivazioni come invece un terribile fisico prussiano guardate l'ironia da un nemico della sua relatività il grande fisico storico della fisica Pierre Duhem notevole filologo della scienza che però nel caso della relatività si mostrò fortemente sordo alle novità scientifiche Einstein ebbe le sue soddisfazioni dopo la spedizione dell'eclisse e dopo che soprattutto in paesi come la Gran Bretagna nacquero degli entusiasti della relatività sia speciale che generale il grande divulgatore in questo contesto fu l'ideatore della spedizione dell'eclisse Sir Arthur Heddington in quegli anni emersero delle profonde simpatie per il lavoro dentro la relatività dove doveva distinguersi il grandissimo Paul Dirac e infine vennero fuori delle belle esposizioni divulgative che facevano capire la novità del pensiero di Einstein non era più un ciarlatano era invece un grandissimo fisico come lo salutavano in Germania il filosofo neocantiano Esca Sir e in Gran Bretagna il gallese Arthur Bertrand Russell Berti per gli amici gallese per sole 6 mili ma era nato in Galles era nato in Galles va bene questo è un altro esempio di come il confine tra il falso e il vero e tra talvolta anche l'accusa di assurdità rispetto agli standard che sono convalidati nell'accademia possano emergere da teorie false si può comunque imparare molto come dimostra il caso appunto sia delle maree di Galileo sia soprattutto quello del modello cosmologico del 1917 presentato da Albert Einstein che tra l'altro merita menzione non forse per l'elogio splendido che ne fa il filosofo e fisico Maurice Leak in un libro apparentemente divulgativo sul significato filosofico delle idee di Albert Einstein allora potremmo dire allora è giustificato in un qualche modo nel sentirsi un inquisito anche il povero benveniste non è proprio così non è proprio così perché quello che può colpire fortemente nella difesa di teorie balzane è che le motivazioni che vengono adotte sono motivazioni ragione ma mancano di una importante componente questa componente è quella che io chiamo del rigoroso controllo logico e empirico che talvolta non c'è anche in teorie che possono essere per esempio assai consolanti dal punto di vista morale esempio Frank Tipler ha costruito una curiosa fisica in cui in questa fisica si ipotizza una crescita fortissima degli elaboratori che mantengono i nostri ricordi e che li elaborano ricostruendo anche le parti mancanti finché arriva un grande computer che li coordina tutti e questo computer è Dio non siamo in un racconto di Isaac Asimov come si può sospettare è proprio quello che il nostro ritiene fondamentale nella sua fisica dell'immortalità quindi saremo tutti immortali perché prima o poi il grande computer Dio ci ricostruirà quindi Dio non è all'inizio del mondo ma è la fine del mondo ecco un'ipotesi che aveva anche sviluppato in altri contesti il gesuita Tejardo e Chardin questa fisica dell'immortalità non è stata sufficiente a Frank Tipler legato alla formulazione del cosiddetto principio antropico ma è stata ripresa anche da dallo stesso Tipler in un'altra in un altro protesto la fisica dell'immortalità dava corpo scientifico secondo lui al tema della risurrezione dei defunti mentre invece in un secondo do testo in un secondo testo che è dedicato alla fisica del cristianesimo Dio misteri della fede e leggi scientifiche Tipler è andato ancora più in là facendo una polemica feroce contro l'entanglement della meccanica quantistica accusando John Stuart Bell di aver pasticciato con le sue disequazioni eccetera e terminando con un lapalissiano no giudizio per cui mentre la fisica quantistica è densa di misteri e confusioni intellettuali i dogmi del cristianesimo come per esempio la trinità sono chiari a chiunque a chiunque alla fine però dopo che un po' di critiche sono venute Tipler ha riconosciuto che le sue teorie sono teorie rivolte al futuro dell'umanità dopo tutto l'incontro della festa di filosofia qui a Foligno è sul futuro della scienza e più in generale della società e l'unica prova attuale cioè al presente per le sue teorie è la loro bellezza teoretica e a parte che non c'è nulla di più soggettivo della bellezza come mi insegnavano già teorici del gusto come David Hume e Denis Diderot in pieno 700 a parte questo non basta la bellezza non basta quello che si chiama il piccolo controllo empirico si dovrebbe fare perché la teoria dell'antimateria di Dirac è secondo me una più belle teorie matematiche di una potenza geniale ma Dirac ha avuto la fortuna di un controllo indipendente fatto da Karl Anderson a proposito dei raggi cosmici dove ritrovarono il cosiddetto antirettrone quindi ci vuole appunto la pazienza comunità scientifica che sottopone a controllo le teorie anche più belle prestigiose perché sennò io di teorie belle sulla scienza ne faccio una al giorno l'importante è che sono belle ma non sono vere non sono e credo non ci sarebbero molti fisici a prenderle troppo sul serio dico tutto questo perché il dibattito sulla pseudoscienza secondo me o diciamo questo insieme di teorie false inutili assurde eccetera ha una doppia faccia non c'è niente di male che qualcuno non tiri fuori dentro un programma di ricerca che funziona una teoria ausiliare che è invece come quella delle maree di Galileo fa acqua letteralmente ecco fa acqua letteralmente non c'è niente di male non c'è niente di male nella costante cosmologica in sé ma pensate se qualcuno innamoratosi delle idee di Galileo sulle maree o innamoratosi dell'articolo del 17 di Einstein ne facesse per esempio la pietra angolare di una scienza di stato non sarebbe mica bello perché poi appunto troveremmo Kepler e Newton o magari Willem de Sitter o Tullio Regge che uscì una volta con la battuta bellissima l'universo infinito in tutte le direzioni che si troverebbero dalla parte degli imputati su un tribunale che giudica cos'è scienza e cos'è pseudoscienza voi dite non è successo no è successo perché è successo per esempio i danni di Galileo accusato di non aver portato rigorose prove fisiche a favore del copernicanesimo e quindi di turbare gli animi dei buoni cristiani con delle pure semplici opinioni come quella di Copernico di più la pretesa scientificità di certe tecniche agricole sperimentate da una serie di agronomi dell'Unione Sovietica tra cui il famoso Miciuri divennero nelle mani di Lysenko uno strumento per fare a pezzi compice Stalin ben noto per fare a pezzi la biologia sovietica quando si dico fare a pezzi l'espressione va presa alla lettera conoscendo i metodi del compagno Giosi Vissario Novi Dugashvili in arte Stalin cioè acciaio nel trattare l'opposizione allora il pericolo è che la politica si impadronisca della falsa scienza e si formi una mescolanza di nozioni non adeguatamente controllate con pulsioni che sono pulsioni non tanto di singoli individui ma diventano pulsioni di massa io non tocco un argomento che toccherà credo l'amico Corbellini in questa stessa nostra festa relative a formule miracolose di cura del cancro o di altre o di altre questioni l'idea per esempio faccio solo un esempio che il cancro si possa curare con fondi di caffè con un cristiere di fondi di caffè è stata un'idea che è stata una volta buttata lì dall'attuale principe di Galles Carlo ma naturalmente mi raccontava una volta Peter Atkins questo destò una forte ilarità in tutta la comunità scientifica britannica nonostante che fosse un stato un re un futuro re un futuro re a toccare questo questo problema lo dico questo perché apparentemente nell'irriverenza nei confronti di un futuro re di un futuro re c'è proprio lo spirito di indipendenza della scienza i competenti parlano dice a Galileo Galilei un principe può dire dove si fa una fortezza o un ospedale ma non può costruire lui la fortezza dell'ospedale se no poveri soldati che ci stanno dentro e poveri malati ecco quindi il principe sarebbe bene neanche si dedicasse di più ai suoi doveri di rappresentanza dell'ormai quasi defunto impero britannico e non andasse a spiegare ai medici come si curano i tumori con i fondi di caffè soprattutto potrebbe essere pericoloso se costrui diventa veramente re abbiamo sempre le speranze mi dice il mio amico Christopher Hill grande storico del 600 inglese che non continuiamo a poi sorge un altro Cromwell e provveda su Carlo III come ha provveduto Oliver su Carlo I ecco si vedete che il nome Carlo col numero dispari se noi fossimo degli degli seguaci dei premi Nobel porta sfortuna e potremmo farci una ricerca nella speranza almeno di vincere il premi Nobel ma staremo a vedere finora la signora Elisabetta sapendo cosa il figliolo può combinare ci tiene a vivere il più lungo possibile nell'interesse della monarchia britannica smetto su questo punto perché se no poi mi accusano di vilipendio di capo di stato estero o qualcosa del genere già me la son preso con la signora Palin prima e quindi vorrei aprire con voi un discorso più generale mi ero tenuto un altro esempio ma lo casso per ragioni di tempo che riguardava una degli argomenti io trovo più divertenti cioè le ricerche del paranormale come osservava René Descartes non c'è stupidaggine che prima o poi non abbia trovato qualche filosofo che la difende e mi ero tenuto qui ma lo tengo per la discussione un intervento del 1913 del grande filosofo Henri Bersant il quale si mise a difendere la liceità delle ricerche psichiche sostenendo per esempio che quando una signora rassogna o vede in una seduta medianica la morte del fratello che perisce in un campo di battaglia circa 10.000 leghe da dove si svolge la seduta medianica se vede la scena con grande vivezza senza dubbio è vera argomento interessantissimo che Bersant giustifica con dei ragionamenti estremamente sofisticati che riguardano il tema del mente cervello toccato ieri dall'amico Paolo Flores lo tengo per la discussione anche se l'argomento della vivezza francamente mi sembra gemello dell'argomento della bellezza alla stile Tipler dimostrano poco o meglio dimostrano tutto dimostrano troppo come dimostra troppo l'ipotesi di Peter Colosimo che spiega così il fatto che in maniera inaspettata senza avere strumenti osservativi potenti il decano pazzo di St. Patrick di Dublino cioè Jonathan Swift l'autore dei viaggi di Gulliver indovina che ci sono due satelliti di Marte e non solo indovina il numero ma indovina anche le dimensioni e dà un'idea decente delle orbite come faceva? Non si è mai capito perché l'astronomia osservativa ci arriva un secolo dopo a vedere le lune di Marte e questo mistero di storia della scienza viene risolto brillantemente da Peter Colosimo dicendo ma è chiaro Jonathan Swift era un marziano e siccome era uno dei tanti marziani calati su questa terra probabilmente anche Newton e Einstein erano di quel tipo di popolazione sapeva benissimo che le cose andavano così è una spiegazione che è molto vivace psicologicamente è bella peccato però che abbia il torto di essere incontrollabile di essere incontrollabile in attesa che almeno che qualcuno non ci mostri che c'è stata una migrazione dai canali di Marte fino a il Royal Canal di Dublino ecco finché non ci mostri questo noi non accettiamo le spiegazioni di non è terrestre altro insieme di bufale di Peter Colosimo ma ti dicevo tutto questo è ben raccontato e la ne prese la presidenza ad assistere le ricerche sul paranormale c'erano personaggi di alto livello per esempio tal Sigmund Freud o tal Carl Gustav Jung tanto per dirne due ma anche molti altri grandi esponenti della comunità scientifica soprattutto britannica ma non solo ci credevano in tanti ecco ci credevano in tanti il persino un alido positivista come Cesare Lombroso si fece sedure dalle proprietà medianiche di tale usappia palladino nota imbrogliona come scrive giustamente Silvano in questo bel libro La falsa scienza quindi è un argomento estremamente affascinante perché è bellissima l'idea che i nostri cari tornino dall'aldilà ci dicono cosa è successo cosa succederà magari ci aiuto nell'incertezza della vita magari ci oh no mai che ci però suggeriscano quali carte ha il nostro avversario a pocheri ma che così ci guadagniamo una bella sommetta o un buon investimento che non si risolve in una bolla finanziaria come quella a cui abbiamo recentemente assisto questo non succede però ritengo che questo sia un campo affascinante lo tengo per i cultori del problema mente-corpo che l'amico Florida Arcais ha toccato ieri mi limito ad osservare che aveva ragione secondo me Monty Rode James grande scrittore di fantasmi antiquario di Oxford il quale ha scritto le più belle ghost stories che io abbia mai letto nella mia vita soltanto che quando gli ha chiesto un giornalista ma lei a queste storie ci crede io ma neanche per idea se no non mi divertirei oppure mi viene in mente la splendida battuta del poeta irlandese William Buter Hitz splendida battuta quando gli hanno detto ma lei ai fantasmi irlandesi ci crede in Irlanda te li tirano dietro i fantasmi da villaggio a villaggio soprattutto come diceva Tullio Regge là dove c'è una grande concentrazione di mescite di birre che tiene aperto a lungo dopo le nove di sera ecco te li tirano dietro e William Buter Hitz che aveva scritto i bellissimi racconti di fantasmi dice ma no questo è folclore si racconta per divertirsi e il giornalista questa volta gli chiese ma le cose circa i folletti cioè l'if e people gli ignomi quelli cattivi che ci sono in parecchie storie di Irish beh dice Gitzl no nel caso i folletti potremmo anche crederci quindi il problema non è quello di credere o di non credere ma il problema è quello di lavorare seriamente nella pratica che la scienza costruisce e che è così abile sul lungo periodo a depurarsi della scienza malata cioè capace di curarsi di curarsi anche se a prezzo di sconti polemiche di sofferenze e quindi rappresenta un modello di razionalità e di controllo delle proprie emozioni che è ben diverso dalle politiche demagogiche di quei rappresentanti di partiti che ce n'è a destra come a sinistra perché la madre degli imbecilli è sempre incinta come diceva Samuel Johnson i quali poi si servono di questo in quella crociata per medicine miracolose o per fusioni fredde se preferite tanto per imbastire un po' più un pugno di voti in più grazie dell'attenzione si apre il dibattito ci auguriamo numerose domande da parte del pubblico sono stato presidente nei termini giusti interessantissimo intanto una domanda o una questione mi viene dall'uso politico come lei ha fatto riferimento la possibilità che la scienza sia oggetto di manipolazione per interessi anche politici c'è la possibilità che comunque anche laddove non sia un intervento diretto mirato consapevole comunque la possibilità di un controllo della ricerca sia data dal problema del costo di una ricerca quindi dal da un problema di scelta di riservare fondi per una ricerca che non necessariamente all'inizio può essere o apparire seria voglio dire si fa anche per tentativi ed errori la ricerca muove anche su ampi problemi ma non è sempre credo garantito l'esito ecco dove questo può presentare come la comunità scientifica può in qualche modo superare l'ostacolo di un veto che può venire dalla dalla politica si anche dall'economia anche dall'economia qualche anno fa mi capitò per il conto del Corriere della Sera di intervistare insieme con il collega Nuccio Ordine un premio Nobel Gilles Dejeune che allora insegnava e ricercava l'Institut Henri Poincaré di Parigi quindi una delle serie più prestigiosi della ricerca e Gilles mi raccontava che in tutta una serie di ricerche finanziate dal capitale privato cambiando il consiglio di amministrazione ogni tre anni questi poi giudicano del programma di ricerca se nel giro di tre anni hanno pubblicato delle cose di successo cioè cose che hanno ricadute pratiche ed economiche o no e come facciamo essere sicuri diceva Gilles che questo programma di ricerca non dia cose di successo tra dieci anni o tra venti o tra cento e questo taglione del tre anni porta ahimè talvolta a forzare le ricerche il che vuol dire insistere con dei modelli costruiti ad hoc più sui successi e cancellandoli in successi è uno dei grossi problemi questo tra l'altro del controllo dei modelli scientifici e pensate che nel 1905 quando Einstein pubblica l'equivalente della formula che gli ha dato poi la fama E uguale MC quadro non lo scrive proprio così ma non importa tutti dicono ah che bella scoperta teorica teorica andatelo poi a chiedere a quelli che si sono presi sulla testa in Giappone la bomba atomica a Nagasaki o Hiroshima e vedete se è veramente solo una cosa teorica ma Einstein ha sempre sostenuto di non aver mai visto applicazioni pratiche della sua formula persino dopo che vide alcune testimonianze sul bombardamenti atomici delle città del Giappone e notate che Einstein peraltro è stato uno degli ispiratori di quello che poi fu il progetto Manhattan anche se si tirò indietro molto presto rispetto invece a molti altri suoi colleghi che si cacciarono in questo in questo progetto quindi come si fa a giudicare se una invenzione una scoperta meglio sarebbe dire scientifica può diventare un'invenzione suscettibile di innovazione pratica in certi casi sì in certi casi no bisogna andare avanti e sperimentare realungo prima di avere una sicurezza completa se non ci fosse stata una certa tolleranza sui tempi come raccontava anche recentemente il mio amico e collega Donald Gillis dell'Università di Londra con cui abbiamo scritto insieme un librettino sulla filosofia della scienza del novecento se non ci fosse stata questa pazienza non avremmo avuto gli antibiotici non avremmo avuto la penicillina perché all'inizio sembrava che la scoperta avesse interesse teoretico ma difficilmente si potesse realizzare una medicina su larga scala poi ci sono riusciti ci sono riusciti però ci sono voluti quasi due decenni per arrivare a una soluzione del genere lo stesso caso si è prodotto per i sulfamidici quindi attenzione bisogna avere pazienza e questa pazienza normalmente i ricercatori i scientifici ce le hanno i politici e gli industriali molto meno e questo è uno dei punti poi ci sono anche politici e industriali illuminati e non ne voglio fare minimamente un atto di accusa globale però bisogna tenere presente che questo è uno dei grandi problemi della ricerca oggi lo aveva anche capito il poro Galileo Galilei quando era stufo di avere i ducati che erano pochi secondo lui della Repubblica Serenissima di Venezia e pensò torno a casa cioè in Toscana vado con il gran ducato dei medici chiamo pianeti medici e i quattro satelliti di Giove e mi pagano di più e soprattutto non mi fanno insegnare così non ho gli studenti che sono dei notori rimbrono un piscatto tutto bene peccato che Galileo Galilei pagò tutto questo col fatto come gli disse Cheprero stai attento perché la Toscana è molto più vicina a Roma di quanto non siano le Venezie e Cheplero che aveva la tranquillità di lavorare con Rodolfo II di Asburgo che lo pagava poco ma lo teneva al sicuro Rova Praga aveva perfettamente ragione quindi è da lì che noi cominciamo a capire che la connessione tra il bisogno del potere economico e di quello politico di risultati a tempi brevi e i tempi lunghi dell'impresa scientifica possono andare in drammatica in carotta di collisione senza bisogna citare sempre la solita storia di Archimede che per sbarcare il Lunario era costretto a servire il tiranno di Siracusa nonostante che pare personalmente stando a Plutarco perlomeno lo detestasse e salvo poi finire come è finito per mano di un soldataccio romano che lo uccise o per errore come sostengono le fonti classiche o come sostengono invece alcuni detective della storia per una vera e propria congiura del console Marcello così dico lo ammazzo così imparano questi matematici a lavorare per i nemici della grande Roma ecco scegliete voi la storia che più vi aggrada perché qui si un po' si sconfina nella fantastoria non ai livelli di Colosimo naturalmente di cui sopra ma però sono questioni piuttosto delicate da toccare quindi quello che lei dice è proprio una delle grandi questioni di fondo in questo senso io sono un difensore della ricerca pubblica che dovrebbe essere finanziata dallo Stato senza la pretesa dello Stato di avere un controllo però sui contenuti della ricerca se no viene fuori la scienza sovietica di Giuseppe Stali mi dispiace se non ci sia qui Silvano Tagliagambe che è un esperto del caso Lissenco di tutte le storie con queste collegate ma la ricerca pubblica dovrebbe essere non tanto un monopolio dello Stato della ricerca scientifica se no di nuovo ci risiamo ma piuttosto come consigliava ai suoi tempi John Stuart Mill nel libro On Liberty e come è stato ripreso anche da alcuni studiosi italiani ne cito uno per tutti il grande Labriola mi segnalava proprio Enzo Barone il suo intervento nel 1896 se non mi sbaglio l'Università di Roma per la libertà di ricerca pur da funzionari pagati dallo Stato come sono i professori universitari no? ecco allora la ricerca pubblica dovrebbe essere quella che talvolta favorisce dei programmi di ricerca che non sono tra i più richiesti sul mercato e che la pura logica di mercato tenderebbe magari a dimenticare un'idea secondo me molto interessante che tra l'altro secondo me il suo nucleo risale a uno dei teorici dell'economia liberale che normalmente è considerato un ultra liberista totale cioè Adam Smith il quale invece nella ricchezza delle nazioni dice no attenzione lo Stato deve intervenire nella didattica e nella ricerca perché può darsi che i meccanismi di mercato sopprimano dei filoni che in un secondo tempo potrebbero essere invece assai produttivi ma non sappiamo quanto dobbiamo aspettare e questo è una cosa un grande esempio di saggezza che si ritrova curiosamente in tutta una serie di pensatori che sono considerati ultra liberisti da Adam Smith a Fonayek al nostro Luigi Enaudi tanto per citarne un altro e che invece non sono affatto ultra liberisti ma sono dei veri liberali nel senso dei veri amanti della libertà di ricerca grazie per la frase ultima che ha detto cioè non si tratta di religione oppure di credere o non credere ma di curare la falsa scienza porterò tre esempi personali uno sono la passione per i numeri primi però concretamente dopo aver letto un paio di libri specifici come faccio a capire che cosa sono i numeri primi qualcuno prende le margherite e dice tamo non tamo o così via invece io l'ho presa perché ne ho nel giardino e ho contato i pedali se rispondono a un numero primo o no un numero pari facendo poi una media ponderale sono fuori un bel lavoro però non dico come perché porterebbe via del tempo secondo esempio nel presepe che anni fa ho costruito una casetta aveva una lampada incandescenza con all'intorno una bilamina tutti sanno che se mettiamo insieme due materiali di diversa dilatazione facciamo un arco che può a seconda del calore della lampada incandescenza distaccarsi o no dal codolo della lampada stessa e quindi ad intermittenza che io non conoscevo vedere questa lampada che si accende e si spegne questo è il secondo esempio il terzo è un po' più difficile e c'è anche un precedente i famosi tacchioni questa per me è restata una bufala finché una notta persona disse che da Cern al Gran Sasso c'erano io so poi perché sono appassionato di fisica atomica che non ci sono però siccome sono anche appassionato dei film di fantascienza mi chiedo se un film di fantascienza fosse stato prodotto ai tempi di Galileo di questi che oggi si producono forse qualche cosa di diverso e non appartenente alla falsa scienza si poteva dire domanda le tre cure principali questo vale anche per voi giovani perché io ho fatto un esperimento tra due calamite una piccola e una grande e vedere come si comportano l'una con l'altra ovviamente quella grande per il peso non si sposta ma quella piccola per vari modi di accostarla o di distanziarla si comporta in vario modo secondo i poli questo è un bel esperimento che vi suggerisco domanda la cura o le cure sono soprattutto l'osservazione la sperimentazione o la realizzazione grazie ma guardi io direi che la prima cura è appunto l'attenzione rigorosa all'esperienza e nel stesso tempo anche il buon uso della logica le due forme di igiene mentale come le chiamava il grande matematico Andre Veil e non credo che si debba aggiungere molto di più anche se negli esempi che lei ha citato ci sono delle differenze non tento dentro le questioni della lampada ma siccome io a Catania quando insegnavo matematica all'università alla facoltà di scienze ero collega del fisico Erasmo Recami collaboratore di Piero Calvirola che è stato uno dei grandi teorici dei tacchioni ma c'è stata simpatia non per i tacchioni ma per Recami c'era vero andavamo sempre a cena insieme sono una persona molto simpatica io gli dicevo ma se dal tuo punto di vista dal tuo punto di vista noi che siamo troppo lenti per vivere nel mondo dei tacchioni noi siamo bradioni non abbiamo modo di accertarci mai dei tacchioni a me ricorda un po' quella teoria che suona così questo libro quando lo apro e lo leggo è scritto in inglese ma quando è chiuso per forma di magia è scritto in tedesco come faccio a controllare come è scritto il libro se non aprendolo quindi mi sembra una tipica teoria incontrollabile per principi io Recami una volta venne fuori a spiegarmi invece con degli particolari effetti quantistici forse si poteva avere un'esperienza dei tacchioni lascio ai fisici presenti qui l'onere di discutere questa audacissima ipotesi io non ho mai capito come si potesse fare ma lasciamo perdere l'amico Esasmo Recami per fortuna sua e nostra adesso ha mollato il tacchione e si occupa della scomparsa di Majorana anche lì andiamo nel mistero ma almeno non siamo di fronte a una teoria in linea di principio non controllabile quindi come vede le vie delle congetture sono tantissime secondo un buon uso della logica dell'esperimento che sono tecniche di controllo condivise non mica solo fatte da chi propone le congetture ma anche da chi le critiche e sono quelle che permettono di capirne un po' di più i numeri primi i numeri primi sui numeri primi qualcosa sappiamo oltre al fatto che sono divisibili solo per se stessi e per l'unità no? ecco tre un numero primo nove no ecco tanto per intendi i numeri primi mi sono molto utili in una serie di questioni non solo di teoria dei numeri ma persino di applicazioni alla crittografia ne sappiamo qualcosa sì ne sappiamo abbastanza grazie ai teoremi dimostrati sulla distribuzione dei numeri primi da Jacques Adamare e da molti altri matematici certe cose non le sappiamo ancora la grande ipotesi di Riemann che dovrebbe darci più illuminazione sulla stessa distribuzione dei numeri primi resta nonostante i grandi sforzi di Andre Veil e di molti matematici del novecento ancora non dimostrata quindi persino nella matematica ci troviamo di fronte a un fenomeno che io trovo molto interessante man mano che risolviamo i problemi se ne aprono degli altri è anche un bene questo perché l'aumento di problemi è un segno di ricchezza di una disciplina però qualcuno lo vorremmo anche risolvere in matematica ci riusciamo però se ne aprono sempre di nuovi Newton diceva che la nostra conoscenza è come un'isola circondata dal mare dal grande oceano di quello che non sappiamo noi possiamo aumentare le dimensioni della nostra isola ma aumentando le dimensioni della nostra isola aumentano anche i confini con l'ignoranza questo mi sembra che sia evidente e questo atteggiamento di sobrio scetticismo di cui appunto Newton è un esempio anche Einstein ne fa degli esempi del genere nella sua autobiografia scientifica mi sembra il modo migliore per non farsi troppo impressionare da quella che Silvano Fuso chiama la scienza malata perché anche dalle malattie si imparano un mucchio di cose attenzione questo era un po' il succo di quello che volevo raccontarvi oggi se non ci sono altre domande ringraziamo il pubblico e soprattutto il professor Giorello che ci ha dato questa dimostrazione straordinaria di apertura alla scienza grazie e arrivederci al pomeriggio alle conferenze del pomeriggio di festa di scienza e filosofia no no volevo trovare la persona che mi ha impestato il ruolo ah ecco lo restituisco deve essere una delle ragazze del museo su in alto al piano terzo eh